Frequenti un'università o una scuola o un istituto di istruzione e formazione tecnica superiore? O cominci questo autunno? Una borsa di studio può esserti di grande aiuto per supportarti finanziariamente. Informati sul sito dedicato. La presentazione delle domande è possibile solo online. La valutazione della situazione economica della famiglia è determinata per mezzo di DURP e WSE, che possono essere effettuati presso i patronati, i centri di assistenza fiscale o online. L'accesso ai servizi online è consentito tramite SPID, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi o sistemi europei di identità elettronica. Solamente gli studenti privi di queste modalità di accesso possono richiedere un account certificato prendendo appuntamento presso l'ufficio per il diritto allo studio universitario. Approfitta delle borse di studio della provincia autonoma di Bolzano. Trova maggiori informazioni sul nostro sito. Studiare è un diritto di tutti.